Ben ritrovati con Ceramicanda Amici da Roberto Caroli e Daniela D'Angeli. Il programma che spazia 360 gradi sul mondo della ceramica e non solo, che nella puntata di oggi vi porterà in Portogallo e anche negli Stati Uniti. Lo faremo con un ospite che verrà a trovarci, si tratta di Cristiano Canotti. Spazio poi alla rubrica Come eravamo, una rubrica che ci riporta al 1997, un'intervista a Filippo Marazzi e il Giorgio Squinzi di allora. Infine nella rete vi porteremo, ahimè, ahimè, a parlare di corruzione, insomma di quelle cose di cui tanto si parla sui giornali. Ma veniamo alle news. Beh, iniziamo con quella che dovrebbe essere una buona notizia e si traduce in un caso specifico. Sai che hanno appena approvato da poco il Job Act e dicono che proprio per questa nuova legge sul lavoro ci sono state in Italia 79 mila nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Beh, il numero è grandissimo. Io però ti do un numero locale. La CityBT a Formigine nella sua sede, grazie anche al Job Act ma non solo, assume 25 persone nuove. Stiamo parlando di installatori di impianti, tecnici commerciali, ma anche di programmatori, quindi anche delle figure, insomma, più elevate. Io non credo che sia dovuto al Job Act. Credo piuttosto che la CityBT avesse bisogno, visto gli investimenti che sta facendo, vista l'acquisizione di Ancora, eccetera, eccetera, la necessità di assumere questi giovani. Male non fa la Job Act, anche perché rendere il lavoro un po' più flessibile, questo comporta il fatto che gli imprenditori magari siano più stimolati ad assumere i lavoratori, sapendo che in un momento di crisi del tutto particolare potrebbero sempre ricorrere a soluzioni negate fino a pochi mesi fa. Restiamo alla CityBT perché all'interno del gruppo CityBT c'è la società Progetta, della quale abbiamo parlato più volte, ospitando in questo studio anche Vincenzo Palumbo. Beh, continua ad acquistare spazio nel mercato della tecnologia digitale e adesso hanno firmato contratti interessanti per una fornitura di moltissime macchine per il gruppo Marazzi, non solo in Italia ma anche all'estero. La serigrafia digitale o meglio la stampa digitale è la parte della meccanica ceramica che va meglio, anche perché se contiamo il numero di aziende ceramiche presenti nel mondo e immaginiamo che soltanto negli ultimi 5-6 anni la stampa digitale si sia fermata, va da sé che insomma il mercato è assolutamente a braccia aperte. È lì che sta aspettando aziende come la Progetta Engineering, ce ne sono tante altre, per portare la propria azienda al massimo della tecnologia. Parliamo sempre di mercati esteri, di come l'export sia il polmone grazie al quale le aziende italiane e anche e soprattutto quelle della ceramica continuano a vivere. È argomento quello dell'estero che hai trattato con l'ingegnere Cristiano Canotti. C'è un paese nella comunità europea che per qualche anno ha catturato l'attenzione e l'interesse da parte dei ceramisti anche italiani, perché si diceva andando in quel paese come avvicinarsi agli Stati Uniti, c'è un mercato interno florido, è un paese che confina con la Spagna. Cioè il Portogallo, se dovessimo vedere le cause, le motivazioni che ha portato quel paese ceramico oggi a non essere più quello di ieri. Che lo frequenta da quasi 30 anni, lo conosco molto bene, ho anche tanti cari amici, ci continuo ad andare. Cos'è successo in quel paese? Guarda, io credo che ci sia un contenuto come quasi sempre solo di natura sociologica, cioè io ho trovato quel paese lì, la ceramizzazione è avvenuta a fine anni 70, quindi quando ho cominciato ad andarci a fine anni 80 le aziende erano relativamente giovani e soprattutto chi le ha fondate, considerate che la media delle aziende di Sassuolo come fondazione sono fine anni 50 e soprattutto gli anni ruggenti sono stati 60-64. Se andate a vedere quasi tutti hanno festeggiato il cinquantenario negli anni appena trascorsi. Allora io mi ero reso conto che la proprietà di queste aziende quasi sempre era fortemente scolarizzata. Tu dirai, ma cosa c'entra? Dico, beh, la proprietà invece delle aziende sassolesi e anche delle aziende storiche spagnole erano proprietà ricche di possidenti, tanto che con fare dispergiativo qualcuno diceva erano proprietà contadine, ma è stata la forza perché l'approccio economico alla conversione dall'agricoltura, tanto avevi beni, no? Ti ricordi quella volta che Zannoni disse noi avevamo tanti beni, avere dei beni significa doverli farli rendere, quindi chi aveva gli arancetti ha messo su le ceramiche, aveva i terreni. Gli italiani, ovviamente qui c'è stato questo contesto competitivo, il Portogallo aveva una situazione polarizzata tra una Sassuolo e una Faenza che là si chiamano Aveiro e Coimbra. Coimbra se vogliamo è la loro Faenza e Aveiro è la loro Sassuolo. Su questa dorsale, sono due città che listano 40 chilometri, si sono create ogni 5-10 chilometri delle unità produttive che si sono anche distanziate, non si sono messe una di fianco all'altro e sono diventate una quindicina, tutte molto simili, all'interno delle quali ci sono state un paio di differenziazioni. Allora questa elevata scolarizzazione della proprietà era perché invece che essere dei possidenti erano dei notabili. ho trovato ingegneri, architetti, notai, avvocati, cioè delle famiglie di grande cultura. Portogallo è pieno di cultura, a un caso Coimbra è la città universitaria del Portogallo. Il fatto è che persone così razionali, perché così piene di cultura, hanno un approccio secondo me meno di pancia a fare impresa rispetto a quella che ho vissuto in tutti questi anni in Italia, sia cosciente che inconsciente, nel senso di consapevole o di temerario. Quindi un approccio a rischio ridotto, che non a caso nel momento in cui c'è stata la crisi del mercato interno, eppure avendo il paese delle relazioni commerciali incredibili con l'Inghilterra e geograficamente con la Francia, anche se meno perché appunto Napoleone l'invase e loro si fecero difendere dagli inglesi. Ha fatto sì che sommando il tutto a una fase cruciale di successione, perché un'azienda nata nel 77 con un proprietario facoltoso per poter fare una ceramica, significa che questa generazione purtroppo, come è avvenuto, ha avuto delle defezioni proprio in questi anni. Ha fatto sì che proprio le tre o quattro successioni aziendali sommate alle tre o quattro aziende che gli italiani hanno acquistato, abbia creato una specie di implosione di fiducia. E questo ha fatto sì che, pur essendo loro capaci, come nessuno in Europa, secondo me di produrre bene un rivestimento di altissima gamma e un pavimento, li ha portati a non sapere più dove andare a vendere il prodotto, perché il Nord Africa no, perché ci vanno gli spagnoli, il centro Europa è molto lontano, perché comunque il Portogallo da Sassuolo in macchina sono 2500 chilometri. Tutto questo li ha fatti sentire abbandonati, non sono andati negli Stati Uniti, perché il Portogallo ha comunque una reputazione commerciale secondaria rispetto alla Spagna e in questa tempesta perfetta molti di loro oggi, proprio anche per motivi di lavoro, mi stanno chiedendo mi trovi un compratore, mi trovi un socio e significa che non sanno più cosa fare. Non sempre purtroppo possiamo dare buone notizie, ma io che sono un ottimista per natura trovo qualcosa di buono anche in quello che ti sto per dire. E riguarda il bilancio del gruppo Ceramiche Ricchetti, che è stato approvato con niente cedola per gli azionisti, nessuna cedola e conti in rosso. Però qual è il punto? Il punto è che se anche il gruppo ha chiuso l'esercizio con una perdita di 16,8 milioni di euro, va detto che sono meno di quelle dell'anno scorso, perché l'anno scorso ne perdeva 19,7. Quindi qualcosa si sta muovendo e l'azienda sta cercando di uscire dalle secche nelle quali era finita. Sì, sono segnali positivi, non devono entusiasmare più di tanto, perché sempre di perdite si tratta, ma d'altra parte se non riprende il mercato in modo più incisivo per talune aziende diventa difficile arrivare al più. Guarda, peraltro va detto che comunque il gruppo ha un fatturato di 185,2 milioni di euro in crescita rispetto ai 184 dell'anno precedente, quindi è brutto da dire forse, ma sui 185 milioni di fatturato, averne 16,8 di perdita non dico che sia fisiologico, ma insomma non è nemmeno tanto grave. No, no, non è assolutamente grave, è positivo, cioè quando si inverte il senso di marcia è qualche cosa sicuramente da apprezzare, non è ancora sufficiente, le aziende devono guadagnare. Torniamo ad occuparci di mercati esteri, lo facciamo con te e la tua intervista all'ingegnere Cristiano Canotti. C'è un distretto negli Stati Uniti, bisognerebbe chiamarlo di Slargo, nel Tennessee, laddove ci sono aziende ceramiche per lo più italiane che hanno messo le radici proprio in quel territorio per essere presenti sul mercato americano, per essere vicine al mercato americano. aziende italiane, però mi risulta che anche cinesi e indiani stiano guardando con molto interesse a quel territorio. Esattamente come guardano a Sassuolo. Piatto ricco, micifico, cioè le concentrazioni distrettuali nascono involontariamente e poi si sviluppano razionalmente anche perché creano un modello competitivo con dei vantaggi e quindi conviene entrare in campo dove si sta giocando. Quindi l'ubicazione del Tennessee è molto curiosa. Io ci andai la prima volta, ormai più di 25 anni fa, a vedere la prima azienda, le prime due aziende che furono realizzate lì, la realizzarono, quelli che sono ancora oggi attualmente, i soci della Florin, che fecero un'azienda, e fu lì che si fu creato il contatto con la Florin, quella che oggi è la Florin Musa, la fecero dei tailandesi. E a pochi chilometri da lì, l'azienda che creò, diciamo così, la prima vera unità produttiva nel Tennessee italiana, era una piccola azienda di mosaico fatta dalla loro gruppo Rival, fatta a Dixon, dove questa azienda poi successivamente è ceduta alla Crossville, poi è stata chiusa. Oggi in quell'area è attesa la nuova grande fabbrica della Daltai. Perché sono finiti lì? È strano, il Tennessee è uno stato cerniera, confina con otto stati, non è frequente negli Stati Uniti, confina con un sacco di stati, è baricentrico, è al sud, ma non è al sud, noi lo conoscevamo per la musica country, e per Elvis, ma Memphis è ben spostato dalla zona economica, più verso il Mississippi. Per una ragione di opportunità probabilmente. Sì, come sempre la creazione di primi insediamenti crea tutto un circolo virtuoso tra le pubbliche amministrazioni, hanno capito che possono attrarre lavoro, Tennessee non è uno stato industriale propriamente detto, come quasi tutti quelli del sud, basava la propria economia su materie prime, su agricoltura, è diventato un grande stato di servizi, oggi è diventato conveniente, però vedete il concetto di distretto è che qui noi siamo addossati con delle aziende che non possono più crescere, espandersi, lì parliamo di Tennessee, ma uno stato che è grande, più o meno un terzo dell'Italia, le ceramiche non sono ovviamente una di fronte all'altra, anzi sono a distanze che sono di 50, 100, 200, 300 chilometri. Ma c'è un altro fattore che può avere scatenato questi imprenditori ed è il fatto che al sud ovest del Tennessee ci siano le materie prime, ci sono tre produttori di argine, molti appalacchi, sì sì, è così. Le aziende devono essere fatte... È così, è così, all'inizio nacque con una decisione baricentrica, cioè si fecero le diagonali, si rese conto che si era a un'ora di volo da Chicago, si era confinanti con la Georgia, dopo la Georgia c'è la Florida, si accede rapidamente al mare, ci sono dei fiumi enormi che consentono anche del trasporto fluviale su chiatta molto economico, si è tutto sommato abbastanza vicini alla zona del nord-est, quindi alla zona ricca, i grandi laghi dalle città di Chicago, che è la culla dell'architettura, tanto che il covering spesso è andato a Chicago negli ultimi anni, proprio perché è dove esistono i più grandi architetti al mondo, non è lontano ovviamente da... Diciamo che come il coverings oggi gravita su Orlando, perché abbiamo dato quasi perduta la costa ovest, perché è ovviamente aggredita dal prodotto cinese, cui arriva con grande facilità, comodità e a basso prezzo, il Tennessee si trova in una situazione conveniente, dove a quel punto quello che sarà forse un po' difficile è pensare di andare lì per poter rubare le persone esistenti, forse quello che non si sa è che in America anche le aziende italiane hanno un tasso di tarnova del personale operativo che supera il 25%, 20 anni fa era del 50%. Ma il fatto che ci sia una concentrazione di aziende proprio in quel territorio, il fatto che la ceramica negli Stati Uniti rappresenti soltanto il 5% del consumo, è positivo? Potrebbe nell'insieme provocare un'inversione di tendenza? È una cosa curiosa, cioè essendo il Tennessee un terzo dell'Italia, noi diciamo sono del Tennessee, le consideriamo vicine come a Sassuoli, invece è come che una fosse una a Milano, una a Napoli, una a Genova, sono molto distanti. È vero che gli americani si spostano frequentemente, per loro spostarsi di 200 chilometri non è uno spostarsi, sono abituati a cambiare stato nella loro vita lavorativamente parlando. Il sentimento degli americani verso il prodotto ceramico non è cambiato più di tanto, consumano meno di un metro quadrato pro capite, il che significa che ancora non si è rotta questa barriera della diffidenza verso il prodotto ceramico, non tanto per scarsa conoscenza, ma quanto per la disponibilità, visto il tipo di costruzione che loro hanno, di prodotti da rivestimento a basso costo, a basso prezzo, più convenienti come sono la mochetta e come sono i vinilici. Il fatto che anche cinesi e indiani arriveranno a costruire unità produttive, che cosa significa? Ma io sono abbastanza scettico perché i cinesi hanno diversi grandi distributori americani che sono delle aziende virtualmente produttrici, con delle linee di produzione affittate tutto l'anno, poi ovviamente dicono in Cina noi siamo soci del produttore ABCDE, non è così, i due grandi distributori Emser e Bedrosian si sa benissimo che hanno quello che si dice degli interessi in aziende cinesi, sul fatto che l'azienda cinese decida di sbarcare lì vedo solo un grande problema, e lo stesso vale per quell'indiana, chi ci mandano? Abbiamo visto la grande difficoltà anche dei tailandesi a suo tempo, cioè non crediamo che il management indiano e cinese sia capace di comportarsi bene fuori dal proprio ambiente, hanno bisogno di persone del posto. Però insomma lei mi insegna che con i quattrini si fa tutto. Sì, però la scelta delle persone è sempre delicata, io vidi appunto i tailandesi mandare le loro persone istruite alle migliori scuole Ovest e sono stati richiamati tutti quanti a casa, proprio per la difficoltà di interagire con un tessuto etnico, vi ricordo che quando si ha a che fare con un'azienda negli Stati Uniti ci sono almeno 10 o 15 etnie diverse con cui bisogna sapere interagire, che spesso non parlo neanche l'americano. Con il rapporto dollaro euro 1 a 1 che cosa significa? Che fa unità produttiva negli Stati Uniti oggi? Possono costare di più ovviamente gli investimenti locali, i macchinari vengono dall'Italia, quindi diciamo che si paga di più il terreno e i fabbricati se vengono acquistati oggi. Però ci sono ancora prezzi molto interessanti, le fabbriche non vengono mai fatte in ambiente urbano, metropolitano, vengono fatte in aperta campagna. Secondo me, voglio dire, uno che fa un investimento in un'azienda che ha un obiettivo a lungo periodo non viene penalizzato più di tanto. È chiaro che si può essere sfortunati, esattamente come quando andiamo a prendere i soldi per le vacanze per andare in Inghilterra quando la stellina improvvisamente aumenta. È iniziato il periodo delle fiere, l'ha aperto come tutti sappiamo in Cevisama, ci sono poi state le altre fiere all'estero, ma la più importante sta per arrivare proprio adesso, ed è il Coverings. Ma prima di questa le aziende ceramiche, anche della ceramica italiana, sono impegnate per la prima volta, proprio in questi giorni, a Battimat Russe 2015. È la prima volta che vanno a questa manifestazione e ce ne sono 31 delle italiane, tra aziende e marchi, ovviamente i più noti nomi della ceramica italiana. Resta comunque un mercato interessante, un mercato che gli italiani non possono lasciar perdere, nonostante il rublo, nonostante la situazione economica russa, loro ci sono, anche perché lavorare nel mantenimento di quel mercato è assolutamente qualcosa di positivo. Ecco, la nostra mania esterofila, non deve farci scordare che siamo anche alle porte, proprio nei giorni del Coverings, di un momento importante, perché c'è il Salone del Mobile a Milano, il fuorisalone, che negli ultimi anni ha visto crescere considerabilmente la partecipazione dell'azienda ceramica, ma anche la considerazione, perché ci è stato detto dai ceramisti, con i quali abbiamo parlato anche lo scorso anno, che la risposta degli architetti al materiale ceramico visto al fuorisalone sta migliorando. Sì, la fiera è sicuramente un evento che anticipa un evento quest'anno, e quindi viene messa un po' in ombra da questo Expo 2015. Milano sarà ricordata quest'anno per questa grande manifestazione internazionale, e non per il Salone del Mobile, che resta un avvenimento interessantissimo, importantissimo, che coinvolge non soltanto l'industria della ceramica, ma nel fuorisalone, credo tutte le aziende che si occupano di finiture da interni, design, materiali, mobili, chi più ne ha più ne metta, è una parentesi certamente che non va trascurata. È il momento di un salto nel passato con la rubrica Come eravamo. Ci sono due carichi da 90, possiamo definirli così, lo scomparso e compianto Filippo Marazzi e Giorgio Squinzi. Anche perché Filippo Marazzi all'epoca, ricordo, che vantava questo suo primato di essere stato il primo ad avere costruito un'azienda negli Stati Uniti, ma era un Filippo Marazzi pimpante, come forse poche volte lo abbiamo visto. Il mercato della ceramica negli Stati Uniti è cresciuto negli ultimi anni in maniera costante, anche se di qualche punto percentuale. Quindi la potenzialità del mercato è enorme. C'è da dire che i concorrenti sono anch'essi stabili, ecco, quindi come volume globale di consumo. Certamente la ceramica è posizionata negli Stati Uniti come nel resto del mondo con un'immagine molto buona. E quindi, infatti, nelle case private, per esempio, viene messa sempre, non solo in cucina o in bagno, ma viene messa nell'entrata. Quindi il primo pezzo di casa che un ospite vede è pavimentato in ceramica. E questa è una cosa molto positiva. Io sono molto fiducioso sul fatto che la ceramica crescerà negli Stati Uniti in maniera importante nei prossimi anni. Ma diciamo che qui poi noi abbiamo l'idea che gli Stati Uniti siano un paese. In effetti non sono un paese ma sono un continente. Per cui andiamo, le situazioni sono molto diverse da zona a zona. Abbiamo delle zone come la Florida e la California dove i consumi sono di tipo europeo e i consumi pro capite sono quasi di tipo europeo. Abbiamo delle zone dove la ceramica è pressoché inesistente come il Midwest, le zone rurali della vecchia America. Insomma, quindi la media che viene fuori è bassa perché parliamo oggi di uno 0,5 metri quadri per persona, poco più 0,56 credo sia dato esatto oggi. Però c'è senz'altro un grosso spazio per crescita e anche nelle zone dove la ceramica non è ancora un materiale acquisito nella mentalità degli americani. Lei come Mappei ha qualche suggerimento da dare ai produttori di piastrelle magari per utilizzare meglio i canali di vendita? Ma diciamo che gli italiani stanno già facendo un ottimo lavoro. nel senso che vendere 30 milioni di metri quadri su un mercato di 150 milioni è già un buon lavoro e secondo penso che questa posizione si possa mantenere e forse anche incrementare puntando sulla qualità sul servizio. Certo qui conta molto noi come fornitore di prodotti per la posa delle piastrelle noi siamo americani nel senso che pur essendo un'azienda italiana qui siamo diventati americani abbiamo 5 stabilimenti negli Stati Uniti 2 in Canada e ci comportiamo come un'azienda americana con gli stessi modi di ragionare con gli stessi sistemi di marketing eccetera per avere successo devi essere americana insomma quindi qualità anche per contrastare quella che è la concorrenza messicana un paese emergente dal punto di vista ceramico ma non credo che si possa parlare di una concorrenza diretta il problema cioè che l'Italia ormai si sta qualificando come il fornitore principe di fascia alta all'interno del mercato ceramico quindi non non credo che il problema sia quello di abbassare i prezzi per fare concorrenza ai messicani o ai brasiliani il problema è di offrire dei prodotti di alto livello che incontrino il gusto dell'americano Ceramicanda.com la prima web tv dedicata all'innovazione tecnologica di prodotto e processo la tv all news pensata per le aziende ceramiche di tutto il mondo Focus notiziario di informazione a cura della redazione Process Machine and Services uno spazio interamente dedicato al processo produttivo Tiles Collection and Project l'innovazione del prodotto ceramico questo e molto altro su www.ceramicanda.com signora gentilmente mi fa la ricevuta fiscale la ricevuta? non c'è problema Carmelo lo scontone eh allora non si disturbi guardia faccia il prezzo come è no no scontone uno scontigione non si preoccupi faccia il prezzo come è 5 euro non nominare mai più quella parola in mia presenza ma che tasse tasse ma signore ma che sta succedendo ragioniere quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga se le paghi una volta anche solo per provare finisce che ti prende la voglia cassa tasse non ce ne pagano il disastro greco può essere imputato a due fattori che si sono rivelati determinanti un'altissima presenza di aziende pubbliche che nel momento di massima crisi hanno riversato i propri debiti eh sullo stato greco la seconda è la corruzione un elevato numero di politici corrotti che non ha certamente favorito il momento difficile che ogni paese della comunità europea ha attraversato durante questa crisi economica anche in Italia la corruzione esiste ed è tanta per fortuna in Italia abbiamo una colonna vertebrale di industrie che rappresenta il vanto del nostro paese industrie che continuano a fare utili ma anche nel caso di loro perdite queste non andrebbero a pesare sulle finanze dello stato basta aprire i nostri giornali ascoltare la televisione i telegiornali insomma ormai la corruzione si dirama in qualsiasi direzione e ovunque le regioni che magari spendono soldi pubblici assessori o anche consiglieri regionali che pagano il conto nei ristoranti con le carte di credito della regione in questo per esempio la procura di Bologna ha messo sotto indagine 41 consiglieri della regione Emilia-Romagna per i rimborsi richiesti indebitamente l'accusa e principalmente quella di peculato ma questo è soltanto uno dei tanti casi se veniamo poi all'inchiesta sulle grandi opere per la quale si è dimesso il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi tra i 51 indagati anche Graziano Patuzzi ex sindaco di Sassuolo veniamo al fatto del giorno CPL Concordia il sindaco di Ischia Giuseppe Giosi Ferrandino e altre nove persone tra cui dirigenti del colosso appunto delle cooperative modenesi sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta della procura di Napoli su tangenti pagati per la metanizzazione dei comuni dell'isola campana io potrei andare avanti all'infinito perché ormai i nostri giornali si occupano in grande parte di questi casi di questi nostri politici corrotti e sono corrotti trasversalmente ovunque lo sono a destra come a sinistra come al centro evidentemente è un fatto endemico ma la cosa che vorrei fosse portata alla vostra attenzione è un'altra cioè non è tanto la giustizia il fatto che questi signori possano andare dietro le sbarre il fatto che poi venga emessa una sentenza sta di fatto che nell'incertezza comunque della nostra giustizia c'è un fatto assolutamente chiaro ed evidente cioè i nostri partiti politici sono sempre esenti da responsabilità per cui se il ministro Lupi sbaglia non è mai colpa del nuovo centrodestra se sbaglia qualcuno del PD non è mai colpa del partito così come se sbaglia qualcuno di Forza Italia o qualcuno del Movimento 5 Stelle o della Lega non è mai colpa del partito ma è anche colpa nostra perché come potrebbero pagare i partiti politici se non politicamente se non nel momento in cui ci chiamano ad esprimere un nostro parere politico cioè se loro uomini continuano a sbagliare e noi cittadini italiani continuiamo a dare il voto sempre lì non cambierà mai la situazione al di là che potrebbero inventarsi un meccanismo per cui alle elezioni politiche successive un partito che vanta per modo di dire personaggi loschi nel proprio ambito che hanno sbagliato dovrebbero essere decurtati di un 5% del consenso ma questo è soltanto teoria questa è solo provocazione quello che conta i veri giudici dovremmo essere noi a colpirli nel momento in cui non dovessero dimostrarci l'attenzione soprattutto nella scelta degli uomini che ci governano signora gentilmente mi fa la ricevuta fiscale la ricevuta non c'è problema carmelo lo scontone eh allora non si disturbi guardia faccia il prezzo come è no scontone lo scontigione non si preoccupi faccia il prezzo come è 5 euro non nominare mai più quella parola in mia presenza ma che tasse tasse ma signore ma che sta succedendo ragioniere quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga se le paghi una volta anche solo per provare finisce che ti prende la voglia cassa tasse non ce ne pagano bene anche per oggi è tutto se lo vorrete noi saremo di nuovo insieme stesse orari stesse reti potete rivedere questa puntata su www.ceramicanda.com oppure sul canale 813 di sky tg architettura arrivederci buona pasqua